Buonasera, benvenuti all'appuntamento con il TG News 24 edizione delle 22 e 30. È in corso un'operazione di soccorso da parte del soccorso alpino e spedologico sul monte Mangart in territorio sloveno. Una giovane escursionista tedesca di 27 anni rimasta bloccata dal maltempo e dalla neve ha richiesto il soccorso nel tardo pomeriggio facendo capire dove si trovava grazie ad una foto pubblicata sul profilo Facebook in tempo reale durante l'escursione. La giovane è stata raggiunta dai soccorritori e in forte ipotermia per poterla riportare a temperature normali le si sono dovuti togliere tutti gli abiti che indossava per inserirla in un sacco a pelo e aggiungere all'interno degli strumenti riscaldanti. La ragazza non è in grado di camminare autonomamente e quindi è stato necessario imbarellarla. Anche per questo motivo la discesa sarà molto lenta dovendo attrezzare dei paranchi di calata per gestire la barella con più uomini e diverse manovre di sicurezza. In cima ci sono al momento 12 soccorritori, 3 italiani e 6 sloveni hanno da poco iniziato la discesa. Altri 3 soccorritori italiani attendono al rifugio sottostanti a quota 1900 metri con vivere ed abiti asciutti per coloro che arriveranno dalla cima. Dunque ribadiamo che la ragazza è stata comunque individuata e poi raggiunta dai soccorritori che l'hanno presa in carico. L'operazione durerà ancora diverso tempo per riportarla a Valle. E adesso parliamo della riapertura delle scuole perché domani con i corsi di recupero di fatto si apre l'anno scolastico 2020-2021. Vediamo il servizio dell'agenzia Anza. Tra dubbi, perplessità e qualche certezza, le scuole si preparano a riaprire, seppur a ranghi ridotti, si stima circa un milione di alunni per l'avvio dei corsi di recupero. Ai quesiti di genitori e studenti ha provato a rispondere il Ministero dell'Istruzione in una sorta di guida su come affrontare il rientro post-lockdown. Niente lezioni a distanza, ma in presenza e senza mascherina, a meno che non sia possibile garantire il distanziamento fisico tra gli studenti. Un'ulteriore decisione del Comitato Tecnico Scientifico, comunque, è prevista per i primi giorni di settembre, quando si prenderà anche una decisione sull'uso dei DP nei luoghi comuni. L'ingresso dei ragazzi a scuola potrà essere scaglionato, una decisione che sarà presa in autonomia da istituto a istituto. Ogni scuola fornirà quotidianamente le mascherine a tutto il personale e agli studenti. Gli studenti dovranno misurare la propria temperatura corporea a casa. Qualora questa superi 37,5 gradi, sono obbligati a restare nel proprio domicilio. I genitori informano anche il pediatra o il medico curante che, in caso di sospetto Covid-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione per l'esecuzione del test. Si registra una dichiarazione del governatore della nostra regione, Massimiliano Federiga, sul discorso del trasporto pubblico. Nonostante le richieste della regione fossero più estensive, la regione ritiene un compromesso accettabile il cambiamento di posizione del governo sul trasporto pubblico locale in vista dell'avvio dell'anno scolastico. E questa è in sintesi la posizione manifestata al termine della conferenza unificata, stato-regioni dal governatore del Friuli, Venezia Giulia, dopo la complessa mediazione fra regioni e governo, che ha consentito l'innalzamento della percentuale di occupazione consentita sui mezzi pubblici all'uso scolastico fino all'80% e l'impegno alla messa a disposizione delle regioni di almeno 200 milioni di euro da parte dello Stato. Ci saranno anche gli infermieri scolastici a disposizione per intervenire e monitorare, qualora fosse necessario, gli alunni, gli studenti che dovessero manifestare sintomi sospetti da contagio da Covid-19. Vediamo il servizio. 9.000 infermieri scolastici, uno per ogni plesso, in azione diretta e non solo su chiamata, per verificare la corretta applicazione delle misure anti-Covid, ma anche la salute e i bisogni assistenziali degli alunni e del personale docente non-Covid. Questo l'annuncio della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, pronta a scendere in campo con le proprie forze. Un infermiere, sottolinea la federazione, che di fatto c'è già ed è l'infermiere di famiglia e comunità. La nostra federazione assicura la massima collaborazione alle istituzioni per consentire una riapertura in sicurezza delle scuole, dice la presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Barbara Mangiacavalli. La funzione dei 9.000 infermieri è quella di allertare e attivare in caso di necessità il medico del Dipartimento di Prevenzione a cui il plesso scolastico fa riferimento e di funzionare da contatto diretto con il dirigente scolastico o un suo incaricato, referente scolastico per Covid-19. L'infermiere scolastico, aggiunge Mangiacavalli, promuove la salute e aiuta gli individui ad avere i mezzi e le conoscenze per un maggior controllo sul loro livello di salute. E a partire da domani entrerà in vigore l'ordinanza contingibile e urgente di protezione civile numero 27, firmata oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia Federica, che conferma le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 contenute nell'ordinanza precedente, la numero 22, fino al 30 settembre 2020. Il documento riporta una nota della Regione e ribadisce in maniera univoca la necessità di continuare a mantenere le distanze di sicurezza tra le persone, puntando a favorire la responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati riguardo il contrasto della diffusione del Covid-19. A riguardo rimane in vigore l'obbligo di proteggere naso e bocca nei luoghi al chiuso, accessibili al pubblico e all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale minima di un metro tra non conviventi. Confermata la sospensione delle attività, all'aperto o al chiuso, di ballo, che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo, locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate e spiagge libere, spazi comuni, delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. E adesso i titoli del telegiornale delle 19 per aprire la pagina delle notizie dal nostro territorio. Mal tempo, soccorritori al lavoro per gestire le tante emergenze, 15.000 famiglie ancora senza acqua, forgari, autobotti e sacchetti per la popolazione, a Udine ripristinata la luce. Dopo la tromba d'aria di sabato super lavoro per i vigili del fuoco che devono ancora evadere centinaia di interventi nel Vicentino, problemi soprattutto per la sicurezza delle coperture. Nuova ordinanza della regione fino al 6 settembre, nei mezzi pubblici si potrà occupare il 100% dei posti, ma con l'utilizzo della mascherina in regione oggi, 5 nuovi contagi. Le fiamme gialle di Pordenone hanno scoperto e bloccato una truffa milionaria nel settore dei finanziamenti online, oscurati 5 siti web svizzeri e spagnoli. Wallace sempre più convincente, bene pure Culi Baligino Pozzo, oggi ha incontrato Gotti, la PGC conferma l'inizio del campionato per il 19 di settembre. E dunque è continuata anche oggi la conta dei danni in regione, danni legati all'ondata di maltempo che da sabato pomeriggio ha provocato danni e disagi dalla montagna al mare. Vediamo il servizio. Si continua a lavorare incessantemente per mettere in sicurezza le zone maggiormente colpite dall'ondata di maltempo che ha investito il Friuli durante la giornata di ieri e nella notte. Vigili del fuoco e protezione civile sono in azione nel capoluogo friulano, nel Cividalese, a Manzano e a San Giovanni e a Natisone. Nella maggior parte dei casi gli addetti sono al lavoro per rimuovere dalle carreggiate alberi caduti a terra, soprattutto nel capoluogo friulano, sradicati dal forte vento che si è abbattuto ieri sera sulla città, ma anche in alcuni comuni dell'Interland colpiti da una vera e propria tromba d'aria. A destare maggiore preoccupazione, gli arbusti che si sono letteralmente adagiati su alcune pareti di case e condomini, oltre a quelli crollati a pochi centimetri da auto in sosta, come su Viale dello Sport, via Gorghi, Viale Venezia o lungo la tangenziale in direzione sud. Fortunatamente nella giornata odierna le condizioni meteo sono andate migliorando con i vigili del fuoco impegnati su più fronti per evadere le oltre 170 domande pervenute fino a questa mattina e che necessitano di attente verifiche. Situazioni in miglioramento anche nella pedemontana friulana e pordenonese, dove però 15.000 famiglie sono ancora senza acqua potabile. Ad artaterme tutte le frazioni sono nuovamente raggiungibili, ma un nucleo familiare è stato costretto a lasciare la propria abitazione sita nella frazione di Cedarchis a causa di uno smottamento che ha investito l'edificio e un rio che è esondato allagando l'intera zona. E adesso andiamo a Forgaria, dove l'emergenza è stata abbastanza pesante per quanto riguarda anche la disponibilità di acqua potabile. Vediamo. L'emergenza idrica non possiamo dire con certezza quando si sbloccherà la situazione perché di fatto noi abbiamo l'acqua che serve a gran parte del territorio e che viene comunque presa dalla parte alta del torrente Erzino. Quell'opera di presa lì è gestita da un altro gestore del pordenonese Idrogea che poi cede l'acqua ovviamente al nostro territorio, quindi a gestione CAF. Quindi siamo in contatto ovviamente con l'Idrogea, ci sono state delle rotture con la piena dell'altra sera, il 29, importanti nell'opera di presa come non erano mai state prime e quindi dire un giorno o una settimana direi che creerà più danno che altro perché non abbiamo dati certi. Potrebbero esserci tempi lunghi, si spera di no, ma insomma questo è il quadro. Assolutamente. Al momento quindi per supportare la popolazione sono state collocate delle autobotti con acqua potabile e anche dei bancali con dei sacchetti contenenti acqua potabile. Sì, ovviamente c'è stato un coordinamento rapido e veramente incisivo con CAF, quindi tra l'amministrazione CAF e subito già ieri mattina, appena la terna notizia, abbiamo già fatto arrivare le autobotti che saranno sempre con acqua disponibile durante tutta l'emergenza sulle piazze delle frazioni e in più anche questo nuovo servizio importante che è quello dei sacchetti da 3 litri con l'acqua preconfezionata e potabile. In più c'è anche un servizio in più che abbiamo voluto chiedere, che ho voluto chiedere che venga messo in piedi, ovvero un servizio di provvigionamento di acqua anche per quelle attività del territorio che hanno bisogno dell'acqua, sia attività dove ci sono degli allevatori, quindi del bestiame, ma anche delle attività che hanno bisogno in produzione di acqua per poter funzionare. Rispetto a questo provvigionamento ci sono delle raccomandazioni che desidera fare alla popolazione, anche per i sacchetti, per esempio, quanti possono essere presi? Allora, indubbiamente una cosa importante da dire è che invito veramente la popolazione a prendere l'acqua dalle autobotti, dove comunque ci sarà sempre acqua e verranno sempre riempite in modo puntuale. L'approvvigionamento dei sacchetti per ovvi motivi è molto più complesso, perché vanno comunque imbustati, vanno comunque fatto un certo tipo di procedimento e sono materiale più prezioso, permettetemi, quindi il consiglio è di prendere al massimo un paio di sacchi a famiglia e quindi usarlo con più parcimonia. Rispetto a altri danni causati dal maltempo? Questa emergenza idrica viene subito dopo di un'emergenza che c'è stata sulla viabilità, dove con la protezione civile abbiamo con i volontari liberato per tante ore durante la notte le strade con gli alberi caduti, ma ci siamo trovati anche con altri tipi di problematiche, dove abbiamo dovuto anche intervenire su degli edifici in via Pinzano, che è la via che costeggia il fiume Arzino, perché l'Arzino era a livelli così alti che non era così veramente da tanti decenni e certi edifici avevano l'acqua in casa. Questo già sabato? Questo già sabato, notte, sì. E' andata meglio invece a Lignano, dove i danni sono stati contenuti. Vediamo il servizio con un soprologo anche da parte dell'assessore delle attività produttive Bini. Devo riscontrare danni minori rispetto a quelle che erano le preoccupazioni iniziali, danni comunque ce ne sono stati, è stata erosa una parte importante di Arenile, ma quello che ho riscontrato davvero è la grande operatività, l'efficienza, l'efficacia sia della protezione civile, di l'Isagest e degli operatori dell'amministrazione comunale. In una notte hanno riportato, come dire, hanno reso fruibili, reso di nuovo utilizzabili sia le spiagge, sia le passeggiate di Lignano-Sapitore. Quindi un plauso a tutti gli operatori. E le operazioni continuano anche in Veneto per mettere in sicurezza i luoghi che sono stati colpiti dal maltempo e sui quali si sono abbattuti alberi o sono verificati frane e smottamenti. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati numerosissimi e ce ne parla Rosario Padovano. Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per la tromba d'aria che nel pomeriggio di sabato ha colpito Arzignano, Trissino e altri comuni della provincia di Vicenza provocando danni ingenti. Interessate centinaia di abitazioni, qualche decina di aziende e anche gli impianti sportivi. Le operazioni di soccorso vedono ancora oggi impegnate nella sola cittadina di Arzignano 15 squadre con personale proveniente oltre che dal comando berico da Venezia, Belluno, Treviso, Padova e Rovigo. Nella giornata odierna stanno proseguendo tutti gli interventi per la messa in sicurezza delle coperture con la rimozione degli elementi pericolanti e la copertura dei tetti sventrati con telli di nylon, operazioni di soccorso che impegnano il personale per molte ore. I funzionari tecnici dei vigili del fuoco hanno eseguito sopralluoghi nelle scuole e negli edifici pubblici e anche nelle chiese lesionate per la pianificazione degli interventi. Alle 15 di oggi i vigili del fuoco hanno eseguito intanto 252 interventi in totale da sabato rimangono da evadere 143 interventi. Altri 145 interventi sono stati valutati e chiusi in quanto risoltisi nel frattempo. E adesso chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al maltempo con le previsioni per la giornata di domani a cura di Trebi Meteo, le previsioni sull'Italia, concentrate come sempre in particolare sul nord dove si sono registrati i problemi maggiori in questi giorni, nelle ultime ore. Sentiamo. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che finalmente vedrà una rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, la bassa pressione responsabile del maltempo delle ultime ore si allontana verso l'est Europa. E così tornano ampie zone di sereno. Lo vediamo anche dalla nuvolosità, ancora qualche nuvolamento sarà possibile all'estremo nord-est, qualche nuvola di passaggio in giornata si vedrà di tanto in tanto, ma la cosa importante è che non prevediamo grandi precipitazioni. Controlliamo infatti le piogge attese sull'Italia, sì qualche residuo piovasco sarà possibile all'estremo nord-est, più che altro ridosso della fascia alpina per alpina, e poi nel pomeriggio qualche acquazione sull'Appennino, ma fenomeni ormai isolati. Di conseguenza, diciamo, martedì molto più tranquillo un po' in tutta Italia, finalmente con ampie zone di sereno, qualche breve piovasco all'estremo nord-est, alpi e prealpi. Dicevamo anche sull'Appennino un po' di variabilità, ma nel complesso, vedete, sarà una bella giornata, solo un po' di vento si farà sentire al sud, porterà anche qualche annuvolamento, venti di tramontana, che però hanno il merito di far calare un po' le temperature anche lì, e così, valori piacevoli in tutto il paese. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. E dunque queste le previsioni per quanto riguarda la giornata di domani, adesso parliamo di coronavirus, calano i contagi sia in Italia che in fluido Venezia Giulia, calano però anche i tamponi effettuati in Italia, poco più di 58 mila, poco più di 58 mila in più rispetto al giorno precedente, 719 tamponi in più invece in fluido Venezia Giulia. Andiamo con ordine però, vediamo quello che è successo, che succede in Italia, dove prosegue il calo dei contagi che scendono sotto i mille, l'incremento delle ultime 24 ore è stato di 996 rispetto ai 1.365 di ieri, sale invece il numero delle vittime, 6 in un giorno, ieri erano state 4, per un numero complessivo di 35.483 decessi, e questo emerge dai dati del Ministero della Salute che vi stiamo mostrando. vediamo invece i dati della nostra regione, dove i positivi sono 372 più 4 rispetto a ieri, due pazienti sono in cura presso le terapie intensive, 13 ricoverati in altri reparti, non ci sono decessi e quindi rimangono 348 le vittime della pandemia. per quanto riguarda gli altri dati, le persone in isolamento sono 350, 5 i contagi, 11 in meno rispetto a ieri, i tamponi effettuati 717 e quindi 718 in meno rispetto alla giornata precedente. Ed è corretto dare sempre il numero dei tamponi effettuati, anche perché il numero dei tamponi abbiamo visto interessa e influenza in maniera direttamente proporzionale il numero dei contagiati che vengono riscontrati, per lo più asintomatici. Parliamo adesso di una clamorosa truffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Pordenone che ha oscurato 5 siti di società svizzere e spagnole. La conferenza stampa si è svolta questa mattina, ci racconta Luciano e Delfonso tutto nel servizio. Finanziamenti facili da ottenere, senza alcuna forma di garanzia e concessi semplicemente dopo aver compilato alcuni moduli online e aver versato anticipatamente alla società finanziaria una somma di denaro necessaria per ottenere il prestito. Finanziamenti promessi ma mai erogati per quella che si è rivelata una vera e propria truffa milionaria. A smascherarla la Guardia di Finanza di Pordenone che ha oscurato 5 siti web riconducibili a società di diritto elvetico e spagnolo che promuovevano attività finanziarie abusive. Secondo quanto emerso dalle indagini, infatti, i clienti venivano adescati tramite pubblicità su piattaforme di social network. I siti offrivano la possibilità di accedere a finanziamenti facili, attirando così diversi utenti che pensavano di aver risolto i loro problemi di liquidità. Tra loro anche un cittadino pordenonese che, compreso l'inganno, ha denunciato i fatti. Gli accertamenti condotti dalle fiamme gialle hanno portato a individuare due persone residenti in Germania, collegate alle società di diritto elvetico e spagnolo, amministratrici di più siti internet, utilizzati per organizzare truffe mediante fittizi finanziamenti. Dall'esame della documentazione bancaria è emerso che il sistema truffaldino, nel solo periodo dal 1 marzo al 30 aprile 2019, ha permesso di ottenere illeciti guadagni a danno di 300 stranieri di nazionalità spagnola, croata, inglese, tedesca e portoghese, e di 102 italiani residenti in Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, per un ammontare complessivo di 210.000 euro, a fronte di finanziamenti promessi ma mai erogati per milioni di euro. Dalle indagini, infine, è emerso che le attività truffaldine erano particolarmente fiorenti e consentivano ai responsabili un guadagno di circa 100.000 euro al mese, a discapito delle centinaia di vittime. Ed è invece di un arresto per droga il bilancio dei controlli effettuati nelle stazioni ferroviarie del Veneto. Rosario Padovano. Operazione Stazioni Sicure nel fine settimana su tutto il territorio del Veneto. 82 gli agenti operanti, 16 gli scali ferroviari interessati. Nelle stazioni di Padova e Portogruaro-Caurle i controlli sono stati effettuati anche con l'ausilio delle unità cinofile antidroga. Il bilancio, un arresto e tre denunciati per aver rilasciato false dichiarazioni dell'identità personale, rifiuto di fornire le generalità, violazione di divieto di dimora in un comune. Nella stazione di Padova sono state elevate due multe per inosservanta del regolamento di polizia ferroviaria. I controlli identificativi hanno portato all'arresto di un 37enne liberiano residente a Vicenza resosi responsabile ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato dagli operatori della polizia ferroviaria perché l'uomo alla vista degli agenti manifestava nervosismo, accompagnato presso gli uffici Polfer è stato trovato in possesso di due involucri, risultanti contenere ben un etto e mezzo di marijuana posta sotto sequestro. Adesso abbiamo la pagina sportiva, parliamo dei calendari della Serie A, del calendario della Serie A che verrà sviluppato, verrà composto il 2 settembre. Si partirà il 19 settembre, così come previsto, nessuno slittamento all'inizio del campionato 2020-2021. Sentiamo il servizio di Alessandro Surza. È il 19 settembre la data da cerchiare col circoletto rosso sul calendario per gli amanti del mondo del pallone. In quella data infatti vedrà la luce il campionato di Serie A 2020-2021 che comincerà con i classici anticipi della prima giornata. È questo il primo attesissimo verdetto emesso oggi dal Consiglio federale riunitosi alle ore 12. La riunione dei vertici delle massime istituzioni della Serie A ha confermato quindi che l'inizio del prossimo massimo campionato italiano cadrà il fine settimana del 19 e 20 settembre e si concluderà il 23 maggio 2021 in tempo per gli europei della nazionale. Nonostante le richieste di alcune società di far slittare l'inizio del campionato al fine settimana successivo, non è stata quindi cambiata la data precedentemente fissata. Alla riunione erano ovviamente presenti il presidente della Lega Serie A Paolo D'Alpino, il presidente della Lega Pro Ghirelli, il presidente dell'Aia Nicchi e il presidente dell'Asso allenatore Olivieri, oltre che quello della Lega Dilettanti Sibilia. Quale sarà la gara inaugurale e tutto il resto del calendario lo si scoprirà mercoledì 2 settembre alle ore 12 quando verranno effettuati i sorteggi. L'altra scelta di rilievo presa dal Consiglio federale oggi ha riguardato la riunificazione delle commissioni arbitrali di Serie A e B. A partire da questa stagione i direttori di gara di A e B saranno quindi riunificati. Gli arbitri potranno essere designati indistintamente per partite di entrambe le leghe. Domani sarà ufficializzato il nome del disegnatore unico. Mercoledì inizieremo alle 12 all'interno del telegiornale TG News 24 a seguire la compilazione dei calendari giornata dopo giornata. Un commento più completo, un approfondimento lo faremo invece di sera alle 21 con Massimo Campazzo in conduzione di uno speciale studio e stadio per vedere insieme, per sviluppare, sfogliare insieme le giornate del calendario e fare vari ragionamenti. e naturalmente approfondire il tema generale della preparazione dell'Udinese che giovedì giocherà un'altra gara amichevole dopo quella contro il Vicenza sarà il Legnago, la prossima avversaria dei Bianconeri sempre a Manzano e sempre in diretta su Udinese TV con calcio d'inizio alle 19. Adesso invece andiamo a vedere le pagine dei giornali che sono giunte in redazione che leggerete domani in edicola, che potete compare domani in edicola ma intanto leggere anche nella nostra rassegna stampa. Il Gazzettino apre con la scuola, in classe senza mascherina, il CTS si può togliere quando si è seduti e si accede il distraziamento di un metro, Sardegna, Abruzzo, Calabria e Puglia partono dopo il 14, forse anche Basilicata e Campania. Poi c'è il record da incubo, il crollo del PIL, meno 12,8% secondo trimestre da incubo ma ce lo si doveva aspettare e ce lo aspettavamo visto quello che abbiamo passato. Tamponi, il piano Crisanti è un caso, gelo del Ministro, speranza e il progetto spinto le 5 stelle, dubbi e nulla di deciso. Ed infine il surfista padovano salvato in mare, tradito dal calo di vento, naufrago per 5 ore e poi è stato tratto in salvo. Vediamo le altre pagine, siamo sul giornale, meno 12,8% che botta, economia a pezzi, PIL peggio del previsto, un anno senza crescita, esecutivo in ritardo sui fondi europei, ora il Premier riferisce in aula, bonus, una catena di flop dalle bici al turismo, Conte in fuga da ogni problema e il suo silenzio diventa debolezza e poi in basso bomba migranti sul governo, decreti sicurezza in freezer e il Premier convoca la Sicilia ribelle. Libero, il vaccino non è ancora arrivato, tutti già si scannano per averlo alla ricerca dell'immunità, Europa e Stati Uniti si scontrano per avere il siero un mese prima, i ricchi del pianeta tentano di comprare dosi in anticipo, la corsa all'antidoto sta diventando sporca, gli scienziati pensano più alla politica che alla scienza, Galli e gli altri, virologi, televisivi, poi Conte vuole ripartire ma ostacola il lavoro, il governo del bonus fa crollare il PIL, però Gualtieri è ottimista. La verità, il conto del disastro, scuola lo fanno pagare alle famiglie, l'azzolina ha scaricato le responsabilità sulle spade dei presidi che ora pretendono l'autocertificazione dei genitori, i quali devono anche misurare la febbre ai figli e saranno vittime della folle strategia del tampone. Sotto la testata su virus e ritardi il silenzio degli indecenti che il governo sapesse dal 12 febbraio ciò che sarebbe successo e non abbia fatto nulla e gravissimo, scrive Mario Giordano. Poi c'è una foto del ministro Bonafede, tribunali sempre chiusi, Bonafede ha sequestrato la giustizia ed ancora sull'economia, crolla il PIL e Gualtieri prevede rimbalzi, non ne ha azzeccata una. Ecco le profezie sbagliate dal ministro dell'economia che festeggia felice l'aumento delle entrate fiscali. Chiudiamo con il foglio, il titolo in colore rosso, la scuola e i virus che non vogliamo vedere. E poi sotto la testata ci vorrebbe una gita a chiasso 2.0 per riuscire a gestire il politicamente corretto alle vongole, a volte anche Google aiuta. Queste le pagine dei giornali, i titoli in anteprima nel nostro telegiornale. domani la rassegna completa alle 7.00 con il primo appuntamento live della nostra informazione. Da parte mia è tutto, vi lascio a Guido Comirato e alla rubrica Accadde Oggi. Buonanotte. Il 31 agosto del 2004 è una giornata calda per quanto concerne le trattative di mercato dell'Udinese. Il direttore sportivo dell'Udinese Pierpaolo Marino è impegnato con il presidente dell'Empoli Corsi a trattare l'acquisto di tre elementi. Manuel Belleri, classe 1977. Emilson Cribari, che è un brasiliano e che proprio nell'Empoli si è messo in evidenza. Anche egli è un difensore, classe 1980. Soprattutto si sta trattando tra Empoli e Udinese l'accessione al club bianconero di Totò di Natale. La trattativa già in mattinata sembra sfociare nella direzione giusta, ma subentrano alcuni problemi, nel senso che entrano in gioco anche i procuratori, i procuratori che non vanno d'accordo né con l'Udinese e soprattutto con l'Empoli. In sostanza la triplice trattativa è sul punto di naufragare, ma Marino poi in extremis è bravissimo a portarla, felicemente in porto. I tre giungono a Udine, su segnalazione anche dell'allenatore Luciano Spalletti, che conosce sia Belleri, sia Cribari, sia Totò di Natale. Quest'ultimo il giorno dopo è già Udine e partecipa ad un amichevole dei bianconeri, Udinese Ascoli 1-0, gioca nel primo tempo, così così, non bene, ma neanche male, ma è la sua prima esibizione. Poi tutti sanno che la storia di Di Natale sarà anche la storia più gloriosa dell'Udinese calcio. Se Di Natale è stato un grandissimo calciatore dell'Udinese, probabilmente il più grande, Belleri non è che abbia avuto granché fortuna, ha disputato 22 gare. Cribari poi, dopo un inizio promettente, di gare ne ha disputate 9 e l'anno successivo entrambi sono stati ceduti, tutti e due, alla Lazio. E nella formazione capitolina, chi avrà più fortuna tra Belleri e Cribari sarà quest'ultimo. Per quanto riguarda Di Natale, è rimasto in bianconero sino al 2016 ed ha disputato 445 gare ufficiali, 385 delle quali in Serie A, impreziosite da 191 reti. Complessivamente, Di Natale, di reti con la maglia dell'Udinese, tra Campionato, Coppa Italia e Coppa Europee, ne ha messi a segno 227. Grazie a tutti.